Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi parliamo dei Severi. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale. Ogni settimana lezioni di storia romana. I Severi Abbiamo parlato nell'ultima video-lezione della morte di Commodo e ora invece affrontiamo un nuovo argomento. Parliamo del passaggio da un impero d'oro a un impero di ferro arrugginito. Queste parole non le dico io ma le dice uno storico Cassio Dione ed è così che apriamo la dinastia dei Severi dal 193 al 235 d.C. I Severi sono Settimio Severo, Caracalla, Geta, Elio Gabalo peraltro un personaggio molto interessante e Alessandro Severo. Quella dei Severi è una monarchia militare di fatto prelude al regime degli imperatori tardo-antichi. I soldati acquistano maggior potere e sono tutelati con le riforme militari perché è molto importante l'approccio e l'aspetto militare per l'impero. Anche i senatori, sempre in lotta con gli imperatori lo abbiamo visto anche nel corso delle altre elezioni o in accordo, chiaramente dipendeva da quale imperatore perdono la loro influenza. Commodo muore nel 192 d.C. al che il senato nomina Elvio Pertinace però questo imperatore sta al potere solo 83 giorni perché viene assassinato da una guardia pretoriana quindi di nuovo l'ennesimo scontro tra i senatori e i pretoriani al che inizia una lotta alla successione perché i pretoriani cercano di vendere la carica dell'imperatore però le legioni si ribellano quindi le legioni propongono Clodio Albino, le legioni della Britannia Pescegno Nigro, le legioni orientali e Settimio Severo, dalle legioni della Pannonia Di questi tre salirà al potere Settimio Severo che apre la dinastia dei Severi siamo nel 193 d.C. Lui era il governatore della Pannonia, l'attuale Ungheria ed era anche il primo imperatore di origine africana un ottimo imperatore e governa in accordo con l'esercito avete visto anche nelle scorse video lezioni che iniziano ad esserci degli imperatori anche stranieri Settimio Severo cerca di favorire il mondo militare è importante per lui avere il favore delle legioni che lo hanno voluto e quindi aumenta la paga dei legionari prevede una nona militare quindi dà delle derrate gratuite per i membri dell'esercito inoltre migliora la vita militare e come fa quindi? Riscuote più tasse migliorando così con il denaro delle tasse la vita dei militari chiaramente Settimio Severo migliora la vita dei militari perché? perché cerca anche di espandere l'impero e quindi conquistare dal punto di vista militare e che cosa fa? conquista la capitale dei nemici acerrimi dei romani Ctesi Ponte la capitale del regno dei parti il senato per quest'opera gli dedicherà l'arco di trionfo che viene conservato oggi ai piedi del Campidoglio lui combatterà anche in Bretagna contro i caledoni e morirà vi mostro qui dove si trovava Ctesi Ponte poi passerà al regno Sassanide di cui parleremo nelle prossime lezioni dopo la morte di Settimio Severo sale al potere il figlio quindi siamo nel principato dinastico nuovamente Caracalla che governa insieme a Geta però dopo pochi mesi Caracalla non vuole l'impiastro del fratello e quindi lo fa uccidere noi Caracalla lo conosciamo sicuramente per le termi di cui voglio lasciarvi un estratto di Alberto Angelo superata l'entrata vi sareste trovati in una specie di grande caserma con al centro l'immenso blocco centrale delle grandi terme e tutto attorno giardini, siepi, vialetti, fontane ecc però lo conosciamo soprattutto per la Costituzio Antoniniana cosa fa Caracalla? lui estende la cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi in questo modo completa l'integrazione e la parificazione delle province romane fa costruire delle terme meravigliose che sono le terme di Caracalla di cui ci restano le rovine avevano un impianto incredibile per l'epoca ed erano lussuose con marmi affreschi queste terme sono seconde solo a quelle di Dio Cleziano Caracalla anche lui finisce male perché nel 217 viene ucciso da Macrino che è il prefetto del pretorio voleva prendere lui il potere però un anno dopo diventa imperatore Elio Gabalo che è il signore di tutti gli eccessi perché il signore di tutti gli eccessi? perché credo era una personalità diciamo molto particolare intanto non era il figlio legittimo di Caracalla però viene fatto passare per tale e diventa imperatore molto giovane a 14 anni lui era appassionato di culti orientali e quindi introduce il culto di Elagabal questo culto era legato ad una divinità solare di origine semitica e lui era proprio stato sacerdote di questa divinità quando si trovava in Siria quindi a Roma lui si circonda di orientali avidi raffinati e viziosi addirittura sappiate che Elio Gabalo si travestiva da Venere e amava indossare della seta scarlatta i soldati diciamo che erano un po' sconvolti dal fatto che un principe accogliesse la libidine in tutti i suoi buchi infine abbiamo Alessandro Severo perché Elio Gabalo come vedete non poteva durare a lungo quindi nel 222 viene ucciso dai pretoriani e anche lui subisce la Damnazio Memorie quanti imperatori ormai abbiamo visto che avevano subito questa dannazione cancellazione della loro memoria e allora che accade che Alessandro Severo il cugino 13enne lo sostituisce sotto il principato di Alessandro Severo si conserva comunque il sincretismo orientaleggiante noi abbiamo visto che nell'epoca romana erano accettati i culti orientali il culto di Mitra il culto di Iside e quindi lui addirittura nel suo sacrario venera dei sapienti di ogni epoca nel 234 Alessandro riesce addirittura a sconfiggere i Sasanidi prima avevo fatto vedere una cartina con scritto Regno Sasanide perché dopo la sconfitta dei parti si sviluppa il Regno Sasanide quindi mentre in Oriente gli arriva la notizia che gli Alemanni in una tribù germanica hanno oltrepassato il Reno e il Danubio quindi lui tenta di trovare un accordo con gli Alemanni però niente da fare l'esercito non approva questa sua scelta di accordarsi quindi lo elimina a Magonza questa operazione tra l'altro di eliminazione sarà guidata da Massimino il Trace il primo imperatore di origine plebea con Massimino il Trace si aprirà l'anarchia militare da 235 a 284 dopo Cristo alla prossima video lezione a l'anarchia Grazie a tutti.